Calza, quartiere storico di Palermo e dall'oratorio che parte l'aggregazione e il futuro dei giovani. E' proprio così, nel quartiere della Calza sta ripartendo con grande gioia, con grande entusiasmo, un progetto educativo, un progetto formativo per le nuove generazioni. Del resto l'oratorio è un metodo preventivo e quindi con l'oratorio possiamo dare un avvenire migliore alla nostra città, a questo centro storico dove ci sono tanti bambini, tanti ragazzi con diverse anche situazioni che ci incoraggiano a portare avanti questo progetto dell'oratorio. Per dare anche a questi ragazzi e a questi giovani la possibilità di un riscatto umano, di un riscatto sociale, di un riscatto culturale con il gioco, con la musica, con l'arte, con l'aggregazione umana e sociale. Quindi un appello ai cittadini palermitani perché ci aiutino a portare avanti questa rinascita della Calza a partire dai bambini, a partire dai ragazzi che sono per noi davvero la speranza per una città dal volto nuovo e migliore. Ma concretamente cosa serve? Concretamente noi abbiamo avviato già durante la settimana alcune iniziative ecosportive non solo per questi ragazzi e per questi giovani, quindi avete visto anche dalle immagini all'oratorio, ha bisogno della rete, ha bisogno dei palloni, ha bisogno delle attrezzature, ha bisogno di tutto quello che serve per tenere i ragazzi in un ambiente sano, in un ambiente pulito, dove possono crescere umanamente, spiritualmente e dove possono trovare la gioia della vita. Quindi concretamente serve l'apporto di tutti, anche materiale, anche economico per rendere questo oratorio capace di contenere questi ragazzi e anche capace di far giocare questi ragazzi, quindi con gli strumenti per lo sport e per le attività ricreative. Grazie. 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 Grazie.